Fortitudo Treviso Fortitudo, tradita nel primo tempo dal tiro da tre punti, che si è poi rivelato nella ripresa al punto dolente dei suoi avversari, l'occasione è stata agghiotta prima per raggiungere i Veneti, poi per mettere la freccia in un finale segnato soprattutto dai canestri di Cinciarini e Roberson. Cinica, determinata e capace di ovviare agli errori del primo tempo con le stesse armi con cui gli avversari erano riusciti ad imbrigliarla nella prima metà di gara. Accorciare la lunghezza della partita ha avuto per la Pompea un significato molto importante, dare la possibilità a coach Martino di schiarare il trio di grande esperienza composto da Radori, Cinciarini e Mancinelli nei momenti decisivi. Ed è stato proprio il capitano bianco-blu a firmare il primo sorpasso della F all'inizio dell'ultimo parziale sul 61-59, coronando una lunga rimonta partita dal 29-42 di metà secondo quarto. Già detto dei siluri decisivi ad opera di Roberson e Cinciarini, vanno lodate anche le prestazioni di Daniel, 17 e i suoi punti, la raffica di Aradori nel terzo quarto e le gare di grande sacrificio degli altri componenti del roster, capaci di fornire il proprio contributo nelle voci statistiche legate ai rimbalzi, alle palle recuperate e agli assist.